Siamo qui con Chiara Anaclio. Come mai sei a Capraia? Perché ho avuto la fortuna di essere stata invitata da Uovo alla Pop, la galleria di Livorno, che ha creato questa iniziativa meravigliosa che è questo oasi nuove forme di vita che è una residenza artistica che poi confluerà in un festival a ottobre dove appunto questi 18 artisti residenti fra cui io mostreranno il loro lavoro, la loro ricerca sull'isola. Ecco ma tu, io ti ho già fatto questa domanda, vivi di questa attività? Sì, in principal modo sì, in generale di creatività. Dove sei? Io sono di Bologna ma vivo a Roma. Ah, perfetto. Ecco ma cosa, in che cosa consiste questa attività tua qui a Capraia? Ci sei stata qualche giorno. Esatto, questo è il quinto giorno. Questo è il quinto giorno. Io l'ho fatta questa intervista al quinto giorno, non all'inizio perché non sa bene. È fatto bene. E allora come, in che cosa consiste? Allora, consiste che io ho scoperto questa cosa. Ho scoperto che una leggenda narra della nascita dell'isola di Capraia e in generale delle sette isole dell'arcipelago toscano attraverso questa narrazione. Afrodite perde questa collana di perle da cui, insomma, escono queste sette perle e una di queste l'isola di Capraia. Da quel momento in poi, diciamo, questa narrazione è diventata ricerca e fondamentalmente ha un sacco di simboli. Una perla è un simbolo femminile, un simbolo lunare, un simbolo acquatico e quindi in questo momento quello che sto cercando di fare è osservare quest'isola e collegare questo tema con quello che io avverto, respiro. Oggi ho respirato tanto. Anche dove sei stata oggi? Hai fatto il giro dell'isola? Sì, sono andata in barca, è stato meraviglioso. Eh, lo so. È una delle attrattive di Capraia fare il giro dell'isola in barca. Eh, come no, come no. Lo faccio anch'io. Ma quello che succede poi appunto è che è un'isola che io percepisco come antichissima, ha un suo verbo, no? E allora bisogna ascoltare, bisogna osservare. Per esempio, non so, la perla è opaline, iridescente, rosa, molto romantica. Invece qua ho visto roccia, grigio, rosso. Ho visto un respiro profondissimo e quindi adesso sto cercando di intersecare le due cose. Vabbè, allora qui per terra, perché non abbiamo tavoli. Esatto. Poi dopo li inquadriamo meglio. Esatto. Io faccio vedere magari. Vediamo qualcosa. Quello che, diciamo, il principio, no? Per esempio, questo è un... Cosa faccio? Avvicino proprio così, no? All'obiettivo. Ok, ok. È un'opera rinascimentale. Con la perla. Esatto, esatto. Ci sono tantissime rappresentazioni qua. C'è una sorta di Maria Antonietta. Quindi io ho iniziato proprio facendo una ricerca iconografica, no? Su questo. Per poi arrivare io stessa ad interpretare, no? Questo è come una sorta di... Ma questo l'hai fatto te? Sì, questo sì. Ma oggi? Cioè in questi giorni? Sì. Eh sì, io sto lavorando, diciamo, in diretta, no? Quindi questo è una... Con cosa l'hai fatto? Questo l'ho fatto con acrilico, polveri, acquerello e... Vabbè, ve lo faccio vedere anche voi perché sennò qua stiamo... Ricordati che l'obiettivo è lì. Oh mamma! Allora, questa è una perla. Non so se vi ricorda, anche una sorta di ciclo lunare. Eh, voglio dire un'isola in questo senso. Cucu! E poi andando avanti, per esempio, vi faccio vedere una cosa. Allora, dove siamo? Prima di tutto dove siamo? Siamo alla sala Ipogea. Ok. Che è una struttura pubblica. Qui siamo sul terrazzo, dove c'è la rosa dei venti. La rosa dei venti. E poi io sto facendo anche dei ritrovamenti. Per esempio, questo... Che cos'è? Guarda. Che dici? È una roccia. Ma guardate un po', no? Questo ha portato a un lavoro nel secondo giorno. Ho visto questa sfumatura di azzurro. Meravigliosa. Che cos'è? Vediamo se la riesco a far vedere. Torno, eh? Torno. E ho lavorato, diciamo, assemblando. Eh, mica facile, però così. Vediamo. La lattesa crea... La lattesa crea suspense. E allora, per esempio... Ecco qua. Ho fatto anche dei lavori del genere, rami, e ho avvicinato, diciamo, questo tipo di matericità al concetto a cui sto pensando. E poi ieri è stata una giornata molto prolifica con le rocce. Con le rocce. Con le rocce, di rocce. Pazzesca, pazzesca. Hai visto la cala rossa, no? Cioè, quello è l'emblema, uno degli emblemi... E l'ho vista oggi, però l'ho proprio avvertita ieri, in realtà, prima di andare a vedere la cala rossa. E ho sentito tutta questa potenza, no? Che ho tradotto, ovviamente, il mio linguaggio è questo, è pittorico, in questi lavori estemporanei, no? Vediamoli un po'. Almeno anche un accenno. Certo. Adesso ci proviamo, eh? Ma questi poi vengono messi in mostra in questa settimana? Sì. Disposizioni a ottobre. Sì. Questo, per esempio, è un ramo di pino che ho qua con me, ma se mi calo un'altra volta... Casca. Casco, casca. E questi, sì, sono... Ok. Ma questi non sono grandi, sono piccoli, però potrebbe succedere che... Potrebbero anche opere più grandi. Sì, assolutamente, ma infatti adesso sto cercando di capire poi come tradurre, perché, per esempio, non so, la perla è anche vista come le lacrime degli dèi, no? Certo. E allora potrebbe pure essere che io lavori... Ho già visto un qualcosa su cui mi piacerebbe lavorare qua nell'isola. Sono andata anche a Santo Stefano, nell'abbazia sconsacrata, e lì ho fatto un video che riguarda il ricamo del tempo. Quindi ricamo il tempo come fili di perle coriace, no? E quindi adesso sto cercando un luogo per poi tradurre, appunto, magari con un'opera molto più grande di questa. Queste sono dei buzzetti. Ma poi rimarranno a Capraia queste opere? Che ne sai? Non lo sai? Potrebbero rimanere, sì, perché ci sono degli street artist che stanno lavorando, per esempio, proprio su dei muri. Ho visto uno, sì. Esatto, esatto. Ho visto, sì. Che ha lavorato, mi sembra, sul concetto dell'infanzia. Io, diciamo, la mia ricerca artistica funziona secondo un tema di narrazione e sul concetto dello studio del colore, legato proprio al ricordo, all'emozione, eccetera. Quindi, diciamo, adesso sto raccogliendo, come ogni buon processo creativo, no? Per poi capire dove... ho visto una sorta di edificio distrutto, mi sembra nella caletta di San Francesco. Sì. E sto cercando di capire se per caso riesco a fare qualcosa lì. Vedremo, vedremo. Vedremo, va bene. Però l'isola, siccome ci regala tantissimo... Si presta. Sì, presta e regala. Va bene. Allora, io concluderei questa conversazione, che poi ne farò un video completo di questo qui, senza tagli. E poi un estratto di un minuto, vediamo cosa viene fuori. Sì. Ora registrerò la parte, alcuni... Ok. Questi fogli che sono per terra. Benissimo. Mi scuso. Non ti preoccupare. Non ho portato il tavolo, ma insomma... Malissimo, malissimo. Vedi quanto sono offesa, proprio... Va bene, ok. Allora, saluto, arrivederci e ci sentiamo presto. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.